e andiamo congratulazioni Danny te lo sei meritato non è stato facile amico non è stato per niente facile pensavi il contrario? sinceramente sono sempre stato il migliore in campo fin da quando ero solo un bambino senza dover dare il massimo chiunque in questo spogliatoio è sempre stato il migliore è lo stesso in ogni club ora sei con il meglio del meglio beh non l'avevo mai vista in questo modo hai ragione ma adesso adesso il vecchio Williams è tornato dove sarebbe sempre dovuto essere eh? Grazie.